Fratelli d'Italia conferma l'appoggio a Francesco Scrittulli nella corsa alle elezioni regionali in Puglia. A 24 ore di distanza dall'ultimato, un deciso dall'ufficio di presidenza, Giorgia Meloni ribadisce i motivi della scelta e lancia un appello ad Adriana Polibortone, esponente del suo stesso partito ma proposta da Berlusconi. Noi vorremmo ricostruire un'alternativa alla sinistra, a Renzi, a tutta questa gente qui, alle politiche surreali che sta portando avanti e su quello facciamo le nostre scelte. Non è che si può pensare che se Berlusconi litiga confitto e decide di ripensare tutto, noi lo seguiamo come se nulla fosse. Insomma, non abbiamo fondato un partito per questo. Adriana Polibortone da oggi è fuori Fratelli d'Italia? Ma io aspetto di vedere che cosa fa Adriana Polibortone. Non mi esprimo, spero sempre e le faccio da questo punto di vista un appello accorato dell'ultima ora perché non si presti a un'operazione strumentale che serve ad alcuni per saldare i conti interni a un partito sulla pelle della destra italiana, sulla pelle dei propri alleati che farà vincere la sinistra. Coalizione, quella capitanata da Adriana Polibortone, nel caso in cui non si riuscisse a ricomporre questo quadro, il rischio è di arrivare terza e penso che per la storia di Adriana Polibortone questo non sia adeguato. Continua a sperare che si possano ricomporre le fratture interne al centro-destra, conclude la Meloni, ma noi siamo in piena campagna elettorale mentre ad altri interessa di più saldare i conti interni nel partito.